In questo ottobre dal sapore estivo come si sta il sole? Si sta molto bene, molto bene, come agosto, non c'è aria, il mare è bellissimo, è veramente buo e bello. Dunque continua l'estate? Sì, sì, oggi sì, oggi sì, poi ogni giorno può cambiare, finché ci siamo. Secondo il mio parere la stagione estiva potrebbe allungarsi un po', perché veramente settembre è un mese meraviglioso, anche ottobre volendo, però ecco, grazie a questo mare che abbiamo, veramente bisogna sfruttare anche la stagione. E per me le persone che sono a casa potrebbero fare una passeggiata, potrebbero venire in acqua tranquillamente perché veramente è spettacoloso, è una lunghissima estate questa qui ed è meraviglioso proprio perché ci si può godere, anche la spiaggia libera così è molto bella, ecco. Temperatura ideale, fresca, l'acqua appena appena gelida ma da fare un bagno oggi. Sì, si sta benissimo il mare, meglio forse in un ottobre così soleggiato che in piena stagione. Il mare è bellissimo, la spiaggia è fantastica e soprattutto non c'è tutta quella gente che normalmente ci si aspetterebbe, quindi consiglio caldamente di venire al mare in questo periodo. Dunque prosegue l'estate anche a Pesaro? Prosegue l'estate anche a Pesaro, con un po' di fortuna speriamo almeno. Come si sta al mare in questo ottobre dal sapore estivo? Io non sono mai venuta a ottobre al mare, il primo anno è una cosa meravigliosa. Ho continuato a nuotare e quindi con quest'acqua così tonica dà un gusto enorme, cosa che quando fa molto caldo invece si fa molto più fatica. Direi anche ottima la temperatura dell'acqua? Temperatura dell'acqua, ma anche e soprattutto quando esci dall'acqua non soffri, non hai bisogno neanche di asciugarti, ti asciughi da solo. E poi massima tranquillità sulla spiaggia? Ah sicuramente, è una delizia passeggiare tranquillamente così, si rilassa, ci si riposa veramente, per il corpo e per la mente.